e carissimi amici ed amiche bentrovati sul canale penso cioè pensavo che era l'ultimo video che avrei fatto ieri per il caso di giulia tramontano ma vengono fuori dei particolari che per cui questo caso qui anche se il colpevole è benché scoperto a cipiccia ma sta diventando un caso sociale un caso da cui trasi degli insegnamenti e ben ha detto ieri grazia longo in quarto grado che come dico io pure bisogna insegnare già dalle scuole elementari questa educazione chiamiamola sentimentale questo rispetto d'altra parte non è che voglio dire che adesso siamo in in un periodo peggiore di altri tempi no questo no perché in epoche passate credo che ci siano state violenze ben più silenziose più atroci ora grazie a dio uno degli effetti positivi della grande comunicazione che almeno se ne parla e quindi parlando parlando insomma qualcosa sta migliorando ma purtroppo non è una cosa una cosa facile e vengono fuori delle circostanze veramente da sottolineare ieri ad esempio si è parlato di come questo alessandro fosse un maniaco del controllo un perfettino ma certamente forse nel suo lavoro però vedete questi personaggi qui sono narcisisti e perfetti nel loro lavoro però poi in altre circostanze si comportano da sprovveduti ma veramente così sprovveduti che nemmeno un bambino le scuole elementari potrebbe non scoprire certe cose ovvero nel momento in cui aspetti la tua fidanzata e la colpisce con 37 coltellate sangue dappertutto ok dopodiché la porti nella vasca cerchi di darle fuoco con dell'alcol di casa nella vasca poi la porti giù per le scale lasciando scia di sangue poi nel garage tendi nel garage di darle fuoco poi la mette nel cofano della macchina sempre con questo sangue che viene sparso per tutto il condominio ora dico io con quale speranza con quale intelligenza criminale ecco chiamiamolo così si poteva prima o poi non essere scopesti quindi è un maniaco del controllo si era un maniaco del controllo sì ma nell'ambito del suo settore lavorativo vedete poi per le altre circostanze no lui ha fatto qualcosa di veramente osibile perché quelle 37 coltellate sono coltellate date da una persona vile che aspetta diciamo la fidanzata la credisce alle spalle con i primi due fendenti alle spalle dopodiché la ragazza crolla a testa quindi viene uccisa quasi subito e quelle 37 coltellate molte di quelle sono state date su un corpo morto quindi c'è stata sto fatto di voler infierire su un corpo che ormai non aveva più difesa e poi si dice è crollato è crollato il giovedì cioè cinque giorni dopo ma è veramente io rimango meravigliato da come questo assassino non si è stato scoperto subito nelle 24 ore appena appena dopo la denuncia di scomparsa perché le cose che si fanno sono istantanei cioè quello di andare a casa del del convivente di guardare dappertutto soprattutto nella macchina ora si dice no ma lui non aveva detto di avere il garage non è che si può ragionare in questo modo carissimi amici e amiche non ha detto che aveva il garage si 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 vede bene non è che allora si sta quello che dice una persona potenzialmente sospettata come pure guardando bene sulle scale non nonostante le pulizie sulle scale nell'appartamento c'era c'erano segnali nella vasca da bagno segnali di bruciatura come pure nel garage giù è incredibile incredibile soprattutto le sono le immagini che abbiamo visto ieri le immagini di tele lombardia che praticamente proprio in video ci ha fatto vedere come lui saliva e scendeva con questi stracci che puliva a terra in continuazione per tre quattro giorni quando si cercava giulia quando le tv davano notizia di chissà forse un allontanamento volontario e questo credo che sia una leggerezza perché a mio avviso gli inquirenti avrebbero dovuto subito nell'immediatezza andare a fare una perquisizione molto accurata degli ambienti e della macchina soprattutto c'era questo quadrello addirittura acquistato il giorno prima sembra un quadrello a due ruote per trasportare evidentemente la salme è stata trovata anche qui delle tracce di sangue quindi questo questo Alessandro era un potenziale serial killer che probabilmente voleva uccidere quella notte anche allegra l'altra donna perché uccidendo nella sua mente queste due donne lui avrebbe ritrovato la libertà si è avuto anche contezza di un suo delle sue ricerche su alberto stasi perché sappiamo che alberto stasi da poco tempo che diciamo ha dei permessi lavorativi cioè per lavorare fuori dal carcere e la sera di entra quindi secondo me queste ricerche erano mirate chissà ad informarsi se dopo quanto tempo e eventualmente fosse stato scoperto eventualmente dopo quanti anni potesse avere dei permessi di uscire dal carcere perché è strano che si vada a informare su alberto stasi comunque un applauso un applauso a questa ragazza italo inglese ad allegra che lo ha smascherato lo ha smascherato ha provveduto a fare numerose registrazioni lei si accorta si era accosta già nei mesi precedenti e quando lei andava a casa sua che non c'era giulia lui faceva scomparire le cose i quadri però qualcosa poi come la piastra dei capelli le cose non tutto riusciva a nascondere quindi lei si era accorta si racconta anche dalle dalle foto si era accorto per di tanta anche le foto a ibiza lui aveva detto che sarebbe andato da solo ad ibiza invece ci andò con giulia che già era incinta allora allegra lo aveva smascherato giulia giulia era un po un po più ingenua secondo me perché voleva fino all'ultimo credo che abbia voluto avere una speranza abbia voluto credere che questo rapporto che lei avesse con l'altra ragazza fosse un colpo di testa fosse qualcosa di passeggero e poi scoprì che pochi giorni prima il 19 maggio lui l'aveva lasciato per andare a una grigliata una grigliata con gli amici che non poteva rinunciare invece era il compleanno di allegra poi quando giulia scese giù che ebbe discussione con lui allegra andava a casa sua la casa di alessandro abbiamo visto altre altre litigie abbiamo scoperto come quella del rossetto trovato in macchina però secondo me giulia alla fine si era dovuto far capace di questa situazione aveva detto il vaso si è si è rotto aveva deciso di tenere il bambino perché ormai era a settimo mese di gravidanza ma la storia con alessandro lei voleva voleva che si chiudesse in cui il suo l'aveva già chiusa e quel sabato 27 maggio crolla il castello perché le due le due ragazze le due donne si incontrano si incontrano quindi si chiariscono quindi nessuno è amante tutte e due sono donne ingannate anche allegra sta aspettava un figlio i mesi precedenti ed aveva abortito tutte e due ingannate da un narcisista patologico e quindi anche giulia stava per per dare una svolta alla sua vita quindi non è non è corretto come qualcuno dice che amare questa ragazza allegra l'amante no era un'altra ragazza ingannata il vaso si era rotto però si era rotto giulia lo sbaglio che ha fatto è stato quell'ultimo incontro cioè lei voleva legittimamente tornare a casa lì che era anche la sua casa dove conviveva per dirgli delle cose in faccia per dire te ne devi andare via perché io resto qui a continuare la mia vita però è stato un esore fatale questa forse avrebbe dovuto accettare l'invito dell'amica a non andare a casa andarci un secondo momento magari accompagnato da qualcuno per per chiarire per prendere i vestiari cose perché andare da sola quella sera purtroppo gli è costata la vita costata la vita e dispiace che perché poi qui per il momento non è stata contestata la gravante della premeditazione della crudeltà come si fa il dialetto è premeditato senz'altro perché egli non aveva voluto alcun tipo di chiarimento in pubblico l'aveva aspettata e la dinamica dell'assalto è una dinamica premeditata la crudeltà anche cioè la crudeltà di infierire con tante coltellate su un corpo già esanime a terra e con un bambino di sette mesi incinta che ha perso la vita con con la mamma come non dare questo personaggio gli aggravanti della crudeltà e della premeditazione se ne discute ed è importante perché vedete se questo questo personaggio viene condannato senza le aggravanti e giustamente si rischia fra una cosa un'altra che tra dieci dodici anni ce lo troviamo fuori con vari permessi premio a lavorare di qui di là chi fa una cosa del genere non non merita avrebbe potuto uccidere anche ad allegra quella quella notte però il messaggio che io voglio dare che ce l'ho detto altre volte è che queste ragazze queste donne che vivono dei loro sogni dei loro amori delle loro speranze qui dell'amore ideale l'amore della vita purtroppo bisogna prendere atto che quando si scoprono dei tradimenti si scoprono una doppia vita sì un colpo di testo una debolezza io ammetto può anche arrivare una volta però quando si vede che c'è una patologia dietro quando si vede che certi comportamenti sono costanti come pure le violenze magari non si cambia non si cambia anzi con l'età si può solo peggiorare quindi io direi di non sopportare non illudersi non tirare a campare non dire vabbè ma magari forse cambia forse non cambia no dopo un minimo di sopportazione ma forse una sola volta o due poi non si può sperare quando il vaso si è risotto come diceva giulio il vaso è risotto basta però quando si dice basta deve essere basta si deve mettere la distanza fisica molta distanza fisica tra i due soggetti perché è inutile andare a chiarimenti a essere oggetti di manipolazione perché spesso poi succedono queste tragedie quindi non si finisce mai di scoprire cose nuove su questo caso che ha tanto tanto sconvolto l'opinione pubblica ed è giustamente come dice come dice grazia longo istituire già dalla prima classe elementare corsi di educazione sentimentale perché bisogna essere come i contadini bisogna seminare già in tenere età perché altrimenti ci sono siamo figli di preconcetti vedete allora se non si insegna ai bambini il rispetto e allora poi ci troviamo persone adulte che fanno queste cose atroci grazie amici miei seguitemi anche questo video condividetelo con tutti i vostri amici vi ringrazio un abbraccio vi voglio bene alla prossima ciao a tutti grazie